Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle Salomon Winter Cross Spike, ovvero la scarpa da trail running di casa Salomon appositamente studiata per correre su neve e ghiaccio. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della censione completa. Iniziamo come al solito a qualche caratteristica fornita dalla casa per queste Winter Cross Spike. Troviamo una suola Winter Contagrip di casa Salomon con un tassello alto 5 mm e chiodata. L'inter suola in energy foam sempre di Salomon con un drop di 4 mm, una tomaia costituita da una ghetta idrorepellente e il tutto per un peso di 340 grammi nella taglia 42 da uomo. E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Winter Cross Spike. Come vi dicevo suola Winter Contagrip di casa Salomon, una suola proprietaria di Salomon che è anche chiodata. Infatti troviamo 12 chiodi, 8 nella parte anteriore e 4 nella parte posteriore che ci aiutano ad avere un grip fenomenale soprattutto sul ghiaccio. Questo penso che sia una delle poche scarpe che anche se trovate un lastrone di ghiaccio non avrete paura ad affrontarlo perché appunto ci sono i chiodi. Devo dire poi che tutto quello che riguarda neve, neve durina, anche il fango, ha un grip veramente molto molto buono. L'unica cosa è che naturalmente se andate a utilizzarlo su del terreno che non è morbido, quindi che non è neve o fango, è lì diciamo che tenderà a consumarsi molto velocemente e rischierete anche di far fuori i chiodi. È una scarpa pensata esclusivamente per correre su neve e fango e lì è dove dà veramente il meglio di sé. Passiamo all'intersuola in Energy Foam. Un'intersuola come vi dicevo di 4 mm, quindi un drop abbastanza basso. Devo dire che è quell'intersuola che abbiamo già visto sulle sorelle Thundercross che è quell'ottimo compromesso tra ammortizzazione e reattività. Possiamo utilizzarla per correre molto velocemente, anche a 4,30 km, 4 km si viaggia senza nessun problema, ma allo stesso modo riusciamo a utilizzarla anche per le corse abbastanza lunghe. È un'intersuola poi che garantisce anche una certa rigidità alla scarpa e vi assicuro che quando andiamo a correre magari un po' di punta o magari nei passaggini un pochino tecnici si difende abbastanza bene. È davvero l'intersuola, devo dire, fatto molto molto bene e classico anche di casa Salomon. Ma arriviamo sicuramente alla parte più interessante di queste Winter Cross, ovvero tutta l'atto maia. Iniziando dal puntale, qui troviamo un puntale mediamente strutturato, una roba che se dovessimo prendere contro qualche roccia non abbiamo grossi problemi, ma se proprio tiriamo un calcio secco a una roccia allora sì, lì il male lo sentiamo. L'atto maia in sé poi, per quanto riguarda tutta la parte esterna, quindi più la ghetta, è una ghetta idrorepellente. Tiene alla larga l'acqua, tiene alla larga la neve, ma se poi state con i piedi nella neve per tante tante ore inizia a entrare l'acqua. Come dicevo appunto, è idrorepellente non impermeabile. Però, oltre a tenere fuori la neve e comunque l'acqua, tiene fuori anche tutti gli eventuali detriti, i sassolini che potrebbero entrare. All'interno poi invece troviamo una tomaia molto più classica, traspirante, bella imbottita, che ci aiuta ad avere il piede comunque bello stabile e anche al caldo. Devo dire che ho corso con queste scarpe attorno ai meno 5, meno 6, con una buona calza invernale e non ho avuto freddo al piede. Quindi devo dire che anche la termicità non è per nulla male. E infine, per quanto riguarda questa ghetta, c'è da dire che c'è la classica cernera, per poterla aprire e infilare all'interno il piede, che funziona bene e scorre senza nessun problema. E nella parte superiore abbiamo anche un collare elastico con un bottone per andare a chiuderlo all'attorno alla gamba ed evitare che ci entri qualche detrito alla neve. Arrivando alla parte di tallone, beh, qui abbiamo un classico tallone strutturato nella parte inferiore che pian piano che sale si destruttura. Una scarpa che grazie a questo tallone comunque è abbastanza stabile, anche se dovreste trovare una qualche roccetta, anche gelata, non è un problema, è riuscito a correre veramente facilmente. Devo dire un tallone molto molto classico, davvero, quando mettiamo all'interno il piede, poi anche tutta la parte di imbottitura fa sì che non si abbia nessun dolore. A livello di linguetta e lacci, all'interno della ghetta abbiamo una linguetta molto classica, bella imbottita, che comunque resta fermo, fa restare fermo il piede. I lacci sono fatti col sistema Quick Lace di Salomon, che se vi piace e vi trovate bene, ok, io personalmente non mi ha mai convinto tantissimo, però è una cosa anche un po' soggettiva. A livello di soletta, troviamo all'interno una soletta di Salomon proprietaria, devo dire che mi sono trovato bene, è sostituibile, ma io andrei avanti tranquillamente a utilizzare quella data in dotazione. Per quanto riguarda lo spazio sull'avampiede, c'è da dire che è una scarpa, diciamo, con un avampiede abbastanza normale. Non è né troppo stretta, che dovremmo per forza prendere mezzo numero, un numero in più, ma non è neanche larga, che dobbiamo magari prendere un mezzo numero in meno, oppure versata per chi ha un piede particolarmente grosso. Diciamo, nella norma. Ma arriviamo dunque a capire a chi consiglio più queste Salomon Winter Cross Spike. Allora, secondo me va bene un po' per tutti. Dal corridore che magari sta cercando una scarpa invernale, con quale correre nel periodo freddo su neve e ghiaccio, nessun problema, a chi invece sta cercando una scarpa anche da gara, da prestazione, in cui fare magari una corsa di winter running. Possono andare bene entrambi senza nessun problema. Quella che è, secondo me, il grosso discriminante è dove utilizzarla. Perché, come vi dicevo, neve, fango, ghiaccio, va benissimo. Quando usciamo da questo contesto, iniziamo a fare magari dei single track, iniziamo a fare anche delle strade bianche così, con questa scarpa la distruggiamo su quel tipo di terreno. Quindi, assicuratevi che se volete utilizzare questa scarpa, davvero almeno il 95% del terreno su cui camminate sia morbido. Per quanto riguarda poi la distanza, come vi dicevo, ha comunque una buona ammortizzazione, ci potreste fare anche delle gare sui 40-50 km senza nessun problema, perché comunque i 30 mm sul tallone ci sono. Arriviamo dunque alle conclusioni per queste Salomon Winter Cross Spike. Partiamo dal prezzo, vengono vendute sul sito ufficiale di Salomon a 250 euro e si trova molto spesso in offerta anche sui 190. Vale la pena acquistarle? Secondo me sì, soprattutto anche per il prezzo, perché comunque scarpe di questo tipo per il Winter Running e con la ghetta di solito non si trovano sotto i 200 euro. Quindi sicuramente a livello di prezzo è un'ottima soluzione. Quindi per il resto devo dire che a me è piaciuta, mi sono trovato molto molto bene, quindi sì, ve la consiglio. E detto ciò ragazzi, nella speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!